Il SIDACATO NAZIONALAGENTI Il SIDACATO NAZIONALAGENTI Il SIDACATO NAZIONALAGENTI Il SIDACATO NAZIONALAGENTI Dovrà versare ai propri dipendenti a titolo di arretrati maturati, se non arriveremo, se non raggiungeremo un accordo con le organizzazioni sindacali di dipendenti che possa forfetizzare questa cifra decurtandola in maniera rilevante, dovrà versare per ciascun dipendente un importo che va dai 4 mila ai 9 mila euro. Per un'impiegata di seconda categoria si parlano di cifre intorno ai 5-6 mila euro per ciascun dipendente che era in servizio nel 2008 e che lo è tutt'oggi. Un'agenzia con 4 dipendenti, nella migliore delle ipotesi, non avendo versato gli acconti consigliati da SNA, si troverebbe a versare una cifra superiore ai 20 mila euro. Anche nel caso fosse rateizzata in due o tre importi, voi immaginate l'impatto che questo sforzo, questo sacrificio economico avrebbe su una rete agenziale che oggi ha evidenti problemi di sopravvivenza economica, che oggi sta affrontando la più grave crisi di redditività della sua storia. Come facciamo a immaginare che un'eventuale decisione di questo tipo, cioè di sottoscrivere, di riconoscere il contratto 2011 con tutto ciò che si porta dietro possa non avere impatto devastante sulle agenzie italiane oggi. Allora io vi propongo la possibilità di optare per una strada di maggior condivisione con i nostri dipendenti della gravità del momento. Lo SNA sta cercando di indurre le sigle sindacali dei dipendenti agenziali a rendersi conto che la nostra è una categoria che vuole investire nei lavoratori agenziali, vuole ridurre al minimo il ridimensionamento dell'organico agenziale, vuole limitare al minimo i licenziamenti per riduzione di personale, ma non può permettersi il lusso di ratificare una bozza di piattaforma di rinnovo contrattuale proposta dalle associazioni dei dipendenti che comporterebbe un sacrificio economico immediato nell'ordine delle cifre che vi ho appena detto e prospettico nell'ordine di una rivalutazione degli stipendi in corso, che sono fermi al 2008, di somme superiori ai 120-150 euro in base agli scatti di anzianità e alle categorie al mese per ciascun dipendente. Allora abbiamo chiesto alle organizzazioni sindacali dei dipendenti di comprendere la gravità del momento e di accogliere una proposta conciliativa dello SNAP. Non abbiamo pregiudizi dal punto di vista del riconoscimento dell'adeguamento retributivo basato sull'indice dei prezzi al consumo, però abbiamo grosse perplessità su eventuali ulteriori rivendicazioni salariali, abbiamo grosse perplessità su una modifica dell'impianto normativo del contratto che possa compromettere il mantenimento dei livelli, delle categorie dell'inquadramento del personale ad oggi. La nostra è una categoria che non può permettersi uno slittamento verso l'alto del livello di inquadramento dei dipendenti, slittamento verso l'alto che il contratto 2011 bocciato dal comitato centrale effettivamente può prevedere nel caso di un'applicazione letterale dell'inquadramento per funzioni che ci è stato proposto anche recentemente. Bene, il sindacato nazionagenti, credo con estrema responsabilità, ha mantenuto ferme le posizioni, ma non per un estremismo ideologico che ne caratterizza gli esponenti, ma per un senso di condivisione con tutti i nostri iscritti del momento di maggior gravità nella storia degli agenti di assicurazione dal punto di vista della redditività. Se non ce lo possiamo permettere di sottoscrivere una piattaforma sindacale di CNL troppo oneroso, io credo che sia compito dell'Associazione di rappresentanza degli agenti cercare di condividere con i propri dipendenti questa criticità. Siamo positivi, ottimisti, pensiamo di aver rappresentato in maniera adeguata alle sigle sindacali dei nostri lavoratori agenziali la situazione. A breve conto di intrattenervi nuovamente su questa tematica. Mi auguro con notizie positive, diversamente come categoria, saremo chiamati a delle scelte dolorose e difficili. Non ultima anche quella di pensare a una riscrittura complessiva del CNL di riferimento per i nostri dipendenti. Grazie dell'attenzione e buona giornata.